Bentrovati amici di Radio Civita in Blu ad On The Road verso Sanremo. In questa pillola parliamo di Giordana Angi, cantautrice italiana ma di origine francese che già nel 2012 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il singolo Incognita Poesia. Nel 2016 esce il suo primo singolo dal titolo Chiusa con te XXX per l'etichetta discografica Sugar prodotto da Tiziano Ferro. Nel 2018 oltre che partecipare al talent Amici di Maria De Filippi scrive anche per Nina Zilli il singolo Senza Appartenere portato da Nina Zilli al Festival di Sanremo. Durante il percorso all'interno di Amici si mette in evidenza soprattutto con il singolo Casa. Viene pubblicato anche l'omonimo EP il 19 aprile 2019. Sia il singolo Casa che l'EP sono stati entrambi certificati disco d'oro dalla Fimi per le oltre 25.000 copie e ventude. Giordana partecipa alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il singolo Come mia madre. In un'intervista dice appunto che è molto legata a sua madre e cita anche Dante dal punto di vista della scrittura. In effetti Giordana scrive molto bene ed arriva subito al pubblico soprattutto per le sue interpretazioni. E senza esagerare in alcuni momenti ricorda per alcuni tratti una splendida Fiorella Mannoia all'inizio della sua carriera. Vi lasciamo con il singolo Casa e vi auguriamo buon ascolto.